Allora, caro Salvatore Marino, abbiamo anche un pensiero per te, che è questa targa per tutto il sostenimento che è data all'Associazione Tripla Difesa quest'anno, anche se noi ci conosciamo, e parliamo anche del primo programma firmato e sottoscritto da tutti i giovani del mondo, promosso dall'ONU, che ci invita a firmarlo, oltre che a leggerlo. Potete richiederlo alla nostra associazione che è registrata all'ONU, alle Nazioni Unite, e ve lo inviamo via e-mail, oppure potete venire presso di noi a sottoscriverlo e firmarlo. La prima carta di azione climatica fatta da tutti i giovani, che è una cosa importante. E' importante. Noi per adesso abbiamo detto tutto. Grazie Edana di questa presa in Vicenza. Prego, prego. Grazie a te.